Delitti e contravvenzioni Ecco, in questa parte approfondiremo la distinzione tra delitti e contravvenzioni, la pena per i delitti e le pene previste per le contravvenzioni. Dunque, la distinzione sostanziale tra delitti e contravvenzioni nel vigente codice è meramente formale, distinguendosi esclusivamente per le pene, ma andando ad approfondire ci si può vedere nella sostanza una differenza generale di gravità. Quindi, i delitti prevedono fatti specie fortemente antigiuridiche e pertanto sono puniti con pene sostanzialmente detentive e con forti multe. Le contravvenzioni riguardano fatti specie antigiuridiche più lievi e quindi sono punite sostanzialmente con pene pecuniare ed eventualmente con pene detentive di breve durata. Questo è espressamente stabilito dall'articolo 17 del codice penale che stabilisce che le pene principali stabilite per i delitti sono la morte, che è stata abrogata già con degreto legislativo luogo tendenziale del 1944, l'ergastolo, la reclusione e la multa. Viceversa, le pene principali stabilite per la contravvenzione sono l'arresto e l'ammenda. Approfondiamo quindi le pene previste per i delitti. Queste sono, come si è già detto, l'ergastolo, ossia una reclusione senza fine. L'articolo 22 del codice penale, che è stato dichiarato parzialmente costituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 168 del 1994, nella parte in cui non prevede che questo non sia applicabile ai minori e quindi la pena dell'ergastolo ad oggi è applicabile esclusivamente agli adulti, ossia ai maggiorenni. L'articolo 22 quindi recita la pena dell'ergastolo è perpetua ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso a lavoro all'aperto. Come sappiamo, in verità sono intervenute leggi successive che prevedono una serie di sconti di pena, una serie di possibilità di uscite anticipate e quindi un sistema premiante che anche rispetto agli archiastolani può prevedere una pena con un termine comunque. La reclusione è una detenzione che si estende da 15 giorni a 24 anni. L'articolo 23 del codice penale la prevede espressamente e dice che la pena della reclusione si estende da 15 giorni a 24 anni ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno dalla pena, può essere ammesso a lavoro all'aperto. Infine la multa. Questa è una sanzione pecuniaria da pagare allo Stato che si estende da Euro 50 ad Euro 50 mila, prevista dall'articolo 24 del codice penale che recita la pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a Euro 50 né superiore a Euro 50 mila. Per i diritti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da Euro 50 a Euro 25 mila. Quindi questo articolo, oltre a definire la sanzione della multa, prevede anche la possibilità di estendere in via generale questa sanzione anche nei casi in cui essa non sia prevista specificatamente dalla fattispecie violata in tutti i casi di delitti e quindi dei reati più gravi determinati da motivi di lucro. Passiamo quindi alle pene previste per le contravvenzioni. Ecco, queste sono sostanzialmente due. L'arresto, che è una reclusione che si estende da 5 giorni a 3 anni, previsto dall'articolo 25 del codice penale, che recita la pena dell'arresto, si estende da 5 giorni a 3 anni ed è scontato in uno degli stabilimenti a ciò destinati, oppure in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento a notturno. Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni. L'ammenda, anche questa è una sanzione pecuniaria, l'arresto è, come si è visto, speculare della reclusione, ma in verità prevede un trattamento che non solo è differente nella sua estensione, perché non può comunque superare i 3 anni, ma inoltre prevede subito una serie di sistemi per favorire il lavoro. L'ammenda, anche essa, è speculare della multa prevista per i delitti, ma invece che estendersi da 50 euro a 50 mila, si estende in questo caso da euro 20 a euro 10 mila. è prevista espressamente dall'articolo 26 del Codice Penale, che stabilisce che la pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 né superiore a euro 10 mila.